Roma sembrava la favorita per Expo 2030, ma poi... In Roma, ogni nazione troverà il suo suo spazio, come l'equale tra l'equale, per avere la possibilità di mostrare la sua identità. Non importa quale grande o smalle, in Roma tutti ha qualcosa di unico a offerta, e vogliamo quelli che contribuiscono a un livello playing field. This is why we are ready to take action, to ensure equal opportunities, also from a financial standpoint, for the widest possible... Risultato... Roma ultima, con solo 17 voti.